Giovedì 20 aprile, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione siciliana di Rai TV sul canale 18 del Digitale Terrestre. La procura di Palermo ha aperto una inchiesta sulla morte dell'ex sindaco di Balestrate Paolo Valenti, 71 anni, deceduto lo scorso lunedì all'ospedale policlinico di Palermo. Secondo quanto riportato dalle agenzie la vittima era stata ricoverata proprio all'interno del nosocomio per un intervento chirurgico. Ci dice di più in questo servizio Luca Licata. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta per accertare le cause della morte di Paolo Valenti, ex sindaco di Balestrate in provincia di Palermo, deceduto lo scorso lunedì mattina. Valenti aveva 71 anni, era stato ricoverato all'ospedale policlinico di Palermo per un intervento chirurgico di routine nel corso della degenza post-operatoria. Sarebbero sorte però delle complicazioni. Secondo le prime ipotesi potrebbe essere stata un'infezione ad aver aggravato le condizioni di salute dell'ex primo cittadino. Proprio queste complicanze lo avrebbero portato alla morte. Adesso la procura ha disposto l'autopsia sul corpo. Così da vederci chiaro sulle cause che hanno portato al decesso. Paolo Valenti era cugino dell'attuale sindaco Vito Rizzo. Nel corso della sua lunga carriera aveva ricoperto diversi incarichi amministrativi. Era stato sindaco di Balestrate negli anni 90, assessore comunale durante l'amministrazione retta da Tonnino Palazzolo. Molto conosciuto e apprezzato non solo per il suo impegno politico ma anche per quello sociale e culturale. A piangere la sua scomparsa oltre all'associazione filantropica Lions di cui Valenti era stato primo vice governatore del distretto Sicilia c'è un'intera comunità. Per quanto riguarda invece il centro cardiologico pediatrico di Taormina è ancora incerto il futuro. In Commissione Salute all'Ars si è affrontata la questione e l'appello del presidente della Commissione Sanità, Laccoto, quello di prorogare la convenzione con il Bambin Gesù di Roma. Ancora Luca Licata. Restano ancora in bilico le sorti del centro cardiologico pediatrico mediterraneo di Taormina. Tra rinvie di incertezze si attende ancora una risposta dall'assessore alla salute Giovanna volo. C'è da capire se la regione siciliana potrà continuare a coprire i costi. La scadenza della convenzione che attualmente lega il centro d'eccellenza nel Messinese all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è dietro l'angolo. Avverrà il prossimo 31 luglio. Nel frattempo lo spettro di una chiusura spaventa. Negli anni il centro è diventato un importante riferimento per il meridione d'Italia e non solo. In Commissione Salute all'Ars in questi giorni si è affrontata la questione. È stata chiesta la proroga di un anno della convenzione, un modo per risolvere temporaneamente il problema. Purtroppo è stata fatta una variazione alla rete ospedaliera cardiologica pediatrica spostando nel 2019 da quello che era la sede di Taormina a Palermo. Abbiamo già fatto tre riunioni in Commissione e cerchiamo di risolvere il problema invitando l'assessore e il governo a trovare una soluzione almeno temporanea per una proroga per poi affrontare insieme quelle che sono le possibilità anche di deroga attraverso il Ministero della Salute. La rete sanitaria ospedaliera approvata nel 2019 ha previsto lo spostamento del centro di cardiochirurgia pediatrica da Taormina a Palermo. I tempi dell'effettiva realizzazione di questo passaggio non si conoscono, vanno ancora definiti. Nel frattempo in una parte considerevole della Sicilia i piccoli pazienti e le loro famiglie potrebbero restare senza punti di riferimento. L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di riuscire ad eliminare i lunghi viaggi della speranza, alleggerire dunque il peso dell'emigrazione sanitaria oltre lo stretto. Farlo in un ambito, quello pediatrico, il cui costo si attesta circa 20 milioni all'anno. Per riuscirci bisogna superare attraverso una deroga il decreto ministeriale del 2015 che prevede l'istituzione di una cardiochirurgia pediatrica ogni 5 milioni di abitanti. La Sicilia con i suoi 4 milioni e 8 al momento ha diritto ad una sola struttura. Il decreto ministeriale prevede un reparto di cardiochirurgia pediatrica uno ogni 5 milioni di abitanti, ma la Sicilia per le condizioni orografiche, per le questioni anche di viabilità sicuramente non può coprire da Catania o da Messina a Palermo quelle che sono le esigenze di questi bambini. Per questo abbiamo chiesto al stesso Governo di poter richiedere al Governo nazionale una deroga anche in sintonia con la Regione Calabria per superare questo impasse dei 5 milioni di abitanti. Credo che la cardiochirurgia di Taormina è un punto fermo che dovrebbe restare per dare sollievo a tutti quei piccoli che ne hanno bisogno sia della Sicilia orientale e sia della stessa Calabria che alcune volte proprio vanno nei reparti di cardiochirurgia di Taormina. Questa è una richiesta unanime della Commissione che speriamo possa essere accolta dal Governo. La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto anche i genitori del bimbo di 4 mesi morto per un'emorragia cerebrale al policlinico di Messina. Il piccolo avrebbe riportato ferite dopo aver sbattuto la testa a terra e scivolando dalle braccia di parenti nella sua casa proprio a Barcellona Pozzo di Gotto. La Procura nei giorni scorsi aveva iscritto nel registro degli indagati anche due medici ed un'infermiere del Fogliani di Milazzo, ospedale dove era stato portato in un primo momento il piccolo e da dove è stato dimesso. Arrivato a casa le condizioni del bambino si erano aggravate ed era stato portato di nuovo al Fogliani e poi dopo al policlinico dove con una risonanza era stata riscontrata una emorragia cerebrale. Il piccolo era poi stato operato ma i sanitari non sono riusciti a salvarlo. Le iscrizioni nel registro degli indagati è un fatto dovuto per permettere di poter eseguire l'autopsia come incidente probatorio. I militari del nucleo radiomobile del reparto operativo di Catania hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione un commerciante di autoricambi già noto alle forze dell'ordine la cui attività commerciale si trova nella zona di via Zialisa a Catania. In particolare nel corso di un controllo è stato rinvenuto e sequestrato un consistente quantitativo di pezzi di ricambio. Lo vedete alle nostre spalle presumibilmente di provenienza illecita per i quali il proprietario del negozio non è riuscito a dimostrare legittimo possesso e la reale provenienza. Si tratta nel dettaglio di uno sportello anteriore di una Jeep, sei cerchi in lega, sei gruppi ottici di autovetture del gruppo FCA e due gruppi ottici anteriori di marca Ford del valore di oltre 3.000 euro. Il deferimento odierno è solo l'ultimo di una serie di diversi risultati operativi ottenuti grazie alle attività di controllo avviate proprio dal comando provinciale dei carabinieri di Catania. Solo dallo scorso gennaio in riferimento a questo fenomeno delinquenziale fanno sapere i carabinieri. I militari hanno già operato sei arresti in flagranza di reato, sei denunce a piede libero. La sicurezza nei porti unitamente alla digitalizzazione dei servizi al centro di un incontro a Catania. Esperti del settore a confronto per una tematica di stretta attualità il servizio è stato curato per noi da Francesco Larosa. Digitalizzazione e cyber security un connubio imprescindibile per i porti ma anche per le infrastrutture strategiche e critiche del sistema paese. Su questa importante tematica si è tenuto oggi un convegno a Catania organizzato dall'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale. Un confronto sinergico tra varie componenti alla luce anche del ruolo strategico occupato dalla struttura portuale Tennea. Con i sistemi tecnologici moderni la sicurezza informatica e la cyber security diventa imprescindibile per tutta una serie di ragioni che vanno dalla certezza, dal controllo del dato, dalla protezione del dato perché spesso sono dati sensibili ma anche semplicemente perché a volte gli attacchi bloccano i sistemi informatici, interrompono procedimenti, procedure, fanno saltare meccanismi, cancellano sistemi e quindi tutte queste cose ovviamente poi provocano dei danni enormi in termini di funzionalità ed efficienza dei sistemi che siano portuali, aeroportuali o qualunque cosa insomma. Quindi purtroppo se la tecnologia da un lato ci dà tanto aiuto perché aiuta a migliorare i processi, accelerizzarli, a darne certezza di efficacia, dall'altro lato poi si portano dietro questi effetti collaterali che non sono assolutamente banali, vanno coltivati, vanno coccolati con attenzione. Noi da questo punto di vista già da tempo, da 2019 ci siamo messi in moto e con questa partnership che abbiamo attivato con Leonardo che chiaramente è una garanzia da questo punto di vista e stiamo continuando ad andare avanti, la nostra idea è quella ovviamente di completare questo processo di innovamento e di digitalizzazione di tutte le cose che facciamo in porto, nei porti nostri, nei tre porti nostri e naturalmente farlo in assoluta sicurezza per garantire all'utenza il rispetto degli standard che oggi si richiedono in un porto moderno e efficace, in un sistema portuale moderno e efficace. Maggior ragione visto la condizione strategica del porto di Catania? Sì, assolutamente sì, ma i porti strategici, quelli della rete TNT sono tutti parimenti strategici, infatti noi stiamo facendo questo perché evidentemente riteniamo di essere insieme agli altri porti della rete TNT europea in Italia, riteniamo di essere particolarmente esposti a questi rischi perché da noi transitano nei sistemi portuali italiani, nei 16 sistemi portuali italiani, transita la stragrande maggioranza delle merci e delle persone e quindi evidentemente dei dati, dei rischi e dei pericoli di ogni genere. Parliamo adesso di elezioni amministrative 2023 a Catania, ecco quando presentare le candidature, la presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Comunale e delle collegate candidature a sindaco con la presentazione delle liste dei candidati ai consigli circoscrizionali e delle collegate candidature a Presidente del Consiglio circoscrizionale avverrà a partire dalle 8 del mattino di venerdì 28 aprile 2023 fino alle ore 12 del 3 maggio 2023. Per queste finalità la Segreteria Generale del Comune nella sede municipale di Piazza Duomo osserverà orari d'ufficio in particolare da venerdì come dicevamo a mercoledì 3 maggio in particolare venerdì e martedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 18 eppure domenica 30 aprile sino alle 13 mentre mercoledì 3 maggio come dicevamo sarà possibile presentare le candidature fino alle ore 12. Alvia da oggi la due giorni di forum della Polizia Locale Regionale nella sala Pinella Musumeci di Acireale incontro dibattito di formazione su ruoli e nuove competenze del corpo. Al tavolo dei relatori il procuratore della Repubblica di Catania Fabio Scavone che ha parlato della riforma cartabile. Il servizio è stato curato da Salvo Cutuli. La riforma della Polizia Locale e le nuove competenze operative dei baschi bianchi al centro del forum formativo che ha riunito nella sala Pinella Musumeci di Acireale i vertici dei comandi del Corpo dei Vigili Urbani Siciliani in una o due giorni di incontro e confronto sulle metodologie anche investigative e competenze di Polizia Giudiziaria nei vari ambiti di intervento in relazione alla riforma cartabia approfondita con l'intervento del procuratore della Repubblica di Catania e l'aggiunto Fabio Scavone nella relazione introduttiva e chi ha dato il via al convegno. Un'occasione per conoscere le nuove metodologie investigative attraverso l'impiego della tecnologia sempre più presente nella gestione delle urgenze e emergenze e il contrasto a crimini comuni o l'impennata di infrazione a codice della strada. Peggio, i reati collegati come gli omicidi stradali, dicitura segnata dal legislatore verso quegli incidenti stradari dove si registrano morti o feriti gravi causati da conducenti che si mettono alla guida in preda ai fumi dell'alcol o sostanze stupefacenti. Non è la prima volta che Cereale ospita un convegno sull'attività del corpo della polizia locale su iniziativa del comandante Alfio Ricciardello. La formazione è un aspetto importante della polizia locale e quindi noi ci siamo prefissate di fare questa giornata con un relatore eccezionale anche gli altri del pomeriggio e dei giorni seguenti e quindi in particolare oggi abbiamo il procuratore aggiunto della Repubblica di Catania Scavone che ci illustrerà la riforma cartabia. In sala, oltre ai vertici delle forze dell'ordine presenti in città, ufficiali e ispettori quotidianamente impegnati nella gestione di un servizio a tutela della collettività. I vigili urbani sono il front office della popolazione e il loro ruolo risulta di primaria importanza non solo nell'azione costante di controllo dei territori, da qui l'esigenza della riforma invocate e al centro del dibattito parlamentare. Certamente l'hanno avuto, ce l'hanno tutt'ora, dicono, nel settore dell'infortunistica stradale, degli insedi stradali, è una materia che negli ultimi anni ha una diversa sensibilità, anche una diversa evoluzione giudiziaria. Ma ce l'hanno nel settore del commercio, ce l'hanno nel settore poi del dirimere quelle questioni che a volte sono dirompenti in ambito familiare o tra vicini, hanno un ruolo che richiede sempre una maggiore professionalità. E lo scopo del corso è proprio questo. E il suo intervento in questo senso si inquadra? Sì, in questo senso si inquadra, è un corso d'aggiornamento, quindi per offrire degli spunti che consentano agli operatori di poi acquisire sempre una maggiore professionalità e li aiuti a lavorare meglio. Parliamo adesso di azienda siciliana Trasporti, il Codacons, l'associazione a tutela dei consumatori, avvia procedure legali per i disservizi agli utenti ed in particolare appunto per la tutela dei pendolari. Il servizio con l'intervista al legale del Codacons, l'avvocato Carmelo Sardella, è stato curato da Daniela Cantarella. Anche Codacons scende in campo in difesa dei pendolari costretti a fronteggiare giornalmente i continui disservizi dell'Astnel catanese. L'associazione in difesa dei consumatori apre il fronte giudiziario e comunica l'avvenuto deposito di un esposto denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania per il reato di interruzione di pubblico servizio. Una sistematica ed improvvisa soppressione delle corse che crea gravi disagi ai pendolari, lavoratori e studenti, denuncia il Codacons e che calpesta quotidianamente il diritto alla mobilità dei cittadini. Studenti e lavoratori che utilizzano i mezzi dell'azienda siciliana Trasporti, collegamento tra i paesi dell'Interland catanese e che lamentano da oltre un mese l'altalena delle corse, giorno dopo giorno un quesito senza risposta. Non c'è più alcuna certezza, segnala ai nostri microfoni Carmelo Sardella, dirigente dell'ufficio legale regionale Codacons, sull'effettiva possibilità di poter beneficiare dei mezzi a causa dell'improvvisa soppressione delle corse che naturalmente reca disagio non indifferente a tutti quei passeggeri costretti a quel punto a dover trovare delle soluzioni alternative. Si tratta di sistematici, di servizi, soppressione di corse da oltre un mese che costringono naturalmente i pendolari a gravi disagi, quindi abbiamo deciso di depositare un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania per interruzione di pubblico servizio affinché appunto si possa mettere un freno a questi continui disagi, non è escluso naturalmente che a seguito di ulteriori indagini, insomma presenteremo anche altri esposti presso altre procure e quindi naturalmente ci rivolgiamo alla magistratura affinché appunto si riesca ad accertare le responsabilità per quello che non è naturalmente un disturbizio temporaneo, episodico, ma una soppressione costante che viene ogni giorno senza un adeguato preavviso, quindi lasciando nell'incertezza assoluta agli utenti se naturalmente poter prendere il mezzo previsto all'orario oppure dover saltare anche diverse corse e poi dover naturalmente attrezzarsi con altre modalità. Certo, si hanno delle ripercussioni nella vita reale, nel lavoro, negli impegni quotidiani? Certamente ci sono lavoratori, ci sono naturalmente studenti che hanno impegni programmati quotidianamente che sono nell'incertezza assoluta, si trovano appunto a non poter programmare adeguatamente i loro impegni, quindi non è, ripeto, un disturbizio temporaneo per esigenze di forza maggiore o casi imprevisti, ma è ormai diventata da oltre un mese una sistematica soppressione di corse in tutto il territorio catanese dell'Interland che costringe appunto a gravi disagi gli utenti. E per far fronte ai continui disagi per gli utenti, il Codacons annuncia anche l'apertura di uno sportello di servizi AST con l'indirizzo email sportello chiocciolacodaconsicilia.it. È possibile inoltre contattare il numero di telefono 095 44 10 10 per le segnalazioni dei pendolari e le richieste di indennizzo all'AST in base alla carta dei servizi per la violazione dei diritti degli utenti. Abbiamo attivato uno sportello di servizi AST, qui appunto gli utenti possono rivolgersi per chiedere anche l'indennizzo all'azienda trasporti siciliana per la violazione della carta dei servizi. Senta, con il nuovo avvicendamento del Presidente, quindi va via Castiglione, pensa che possa cambiare qualcosa? Ma questo ci auguriamo naturalmente che il cambio ai vertici possa portare una scossa, un miglioramento della situazione che allo Stato è disastrosa, quindi naturalmente per noi è un auspicio di cambio di rotta. La Casa di Momo compie 10 anni. La Casa di Momo di Ecereale compie 10 anni. Non una scuola dell'infanzia o asilo nido nella concezione moderna, ma una più ampia ed articolata attività didattica all'aria aperta tra la natura e con educatrice e psicologhe impegnate nella coordinazione di un progetto pedagogico innovativo alle nostre latitudini sulla scorta di esperienze condotte con successo nei paesi del nord Europa e adottate dai promotori della Casa di Momo, che apre a territorio con una settimana di iniziative rivolte a grandi e piccini. Un micromondo dove le aule sono organizzate all'aperto, tra la natura e in questo scorcio di verde al centro della città, al 192 di Corso Umberto. Qui il pool di promotori, nel corso di questi primi 10 anni di attività, ha sviluppato percorsi formativi di studio e formazione esperienziale con risultati lusinghieri avvalorati dal Ministero dell'Istruzione in crescita in tutta Italia con l'avvio di nuove scuole che impiegano questo tipo di metodologie didattiche ampiamente sperimentate all'estero, specie nei paesi del nord Europa, e di formazione anglosassone. Dal micronido alla scuola dell'infanzia, primaria e dopo scuola, anche per bimbi con speciali necessità educative, dai disturbi dell'apprendimento a condizioni di fragilità cognitiva. Corsi e ricorsi storici, ripensando alle generazioni cresciute in ambienti meno invasivi rispetto a quelli odierni, i quali, restando a contatto diretto con la natura, hanno sviluppato in maniera naturale barriere immunitarie e una formazione ecologista accantonata nel corso degli anni a favore di modernità e tecnologia sempre più invadente che riduce la capacità di relazione dei bimbi. La scuola di Momo incoraggia metodi relazionali dimenticati eppure fondamentali nella crescita formativa. Stefania Ferrara, educatrice, una delle fondatrici della Casa di Momo. Noi abbiamo un progetto di educazione esperienziale in natura, è un centro dopo scuola specialistico di S.A.B.E.S. Il progetto di educazione esperienziale in natura comprende un micronido, quindi stiamo parlando di bimbi dai 12 mesi fino ai 36 mesi, una sezione primavera che è a cavallo fra il micronido e la scuola dell'infanzia, la scuola dell'infanzia dei 3 ai 6 anni, e poi abbiamo anche una scuola esperienziale in natura primaria che va dai 6 ai 10 anni. Come si sviluppa? Il progetto si sviluppa con il nostro nucleo fondante, proprio l'educazione esperienziale, quindi l'apprendimento che avviene attraverso l'esperienza diretta, l'esplorazione e il gioco. Il bimbo viene posto al centro della progettazione educativa con tutti quelli che sono i suoi bisogni e la sua necessità di esprimersi al meglio. Attraverso quelli che sono i 5 sensi vengono toccati tutti i campi di esperienza ministeriali o le competenze europee, ministeriali ed europee appunto. Abbiamo una biblioteca per bambini e ragazzi che ospitiamo grazie alla Fondazione Atene Roma, nutrita, nutritissima, con una sezione dedicata proprio alla natura e al rispetto dell'ambiente. I libri sono fondamentali per noi, per i bambini, per i nostri bambini, i bambini che frequentano il progetto, sono uno strumento importante e un tesoro da scoprire. Questo è un esperimento che già hanno fatto i paesi del nord, la Svezia e la Norvegia, che adesso arriva anche in Italia e adesso ci ha la Prodaca con un certo successo perché la partecipazione è abbastanza importante. Sì, la partecipazione nutrita è un progetto che ci vede all'aperto, quindi noi siamo fuori tutti i giorni durante tutte le stagioni dell'anno. Vediamo il cambiamento della natura che avviene attraverso proprio il cambiamento che avviene. Le nostre aule non sono al chiuso, sono delle aule all'aperto, al cielo aperto, gli alberi fanno da cornice ed è un'aula che muta, col mutare delle stagioni. Le malattie genetiche rare sostegno alla ricerca da parte di Teleton che per il prossimo 30 aprile ha organizzato una manifestazione. La ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare va continuamente alimentata e sostenuta ed è per questo che Teleton organizza per il prossimo fine mese una grande manifestazione che coinvolgerà la città in Piazza Università a partire dal 27 aprile. Poi domenica 30 ritornerà la camminata per la solidarietà organizzata dal coordinamento provinciale Teleton Catania e che si svilupperà lungo le vie del centro storico Ettenneo. La manifestazione è giunta alla sua quattordicesima edizione e si potrà contribuire con una piccola offerta volta al sostegno della ricerca. Quattordicesima edizione della Walk of Life la camminata per la vita. Vogliamo accendere i riflettori ancora una volta per il quattordicesimo anno su quelle che sono le malattie genetiche rare che la fondazione Teleton porta avanti da oltre 33 anni e quindi vogliamo coinvolgere quanti più cittadini catenesi ad acquistare la nostra t-shirt che vedete indossata dalla nostra hostess appena 5 euro il contributo per poter appunto fare questa camminata per la vita che sarà domenica 30 aprile a partire dalle 10 e mezza sicuramente dal 27 in poi ci sarà il villaggio della ricerca e della solidarietà dove nel palco saranno presenti tante associazioni di malattie purtroppo ma ci saranno anche tanti spettacoli serali che coinvolgeranno i giovani e i meno giovani e dunque vi aspettiamo tutti a Piazza Università a partire dal 27 di aprile alle 10 e 30 ci sarà l'inaugurazione e poi continueremo fino a domenica sera ma la passeggiata sarà domenica mattina a partire dalle 10 e 30 da anni lei si batte per la ricerca che non è mai abbastanza bisogna insistere su questo argomento sono un medico e dunque ho nel DNA la solidarietà ma soprattutto quella che è è la ricerca sulle malattie genetiche rare vedete oggi la fondazione Teleton si occupa con i suoi 2.600 ricercatori che spesso ritornano dall'estero per venire a fare una ottima ricerca in Italia e Dio sa quanto ci sia bisogno di ricerca l'abbiamo visto nel periodo della pandemia siamo usciti fuori ma certamente la richiesta la ricerca è importantissima specie quando riguarda le malattie genetiche sono oltre 6.000 e quindi abbiamo bisogno veramente di tanto impegno da parte dei nostri ricercatori ma soprattutto della fondazione Teleton che sponsorizza questi ricercatori a Paternò adesso dove l'archeoclub Italia nella settimana che ha visto la celebrazione dei siti UNESCO lancia l'appello per la tutela e il recupero del patrimonio culturale organizzata anche una mostra nello storico Castello Normanno Daniele Cantarella nella settimana dedicata ai siti UNESCO l'archeoclub d'Italia di Paternò lancia un forte appello alla tutela e al recupero del patrimonio culturale e lo fa in un luogo di storica bellezza che affonda le sue radici nel 1072 il Castello Normanno di Paternò proposto nelle nostre immagini costruito dai normanni per volontà del Gran Conte Ruggero con l'obiettivo di proteggere la valle bagnata dal fiume Simeto dalle incursioni islamiche in seguito divenne sede signorile della Contea di Paternò che Enrico VI di Svevia assegnò nel 1195 al nobile di origine normanna Bartolomeo De Luci un castello meraviglioso ma da tutelare afferma Domenico Triolo presidente dell'archeoclub sezione di Paternò che nell'occasione ha allestito all'interno dello storico maniero una mostra con splendide opere di artisti del territorio per consentire il restauro di un'altra magnifica opera d'arte il dipinto dell'assunzione di Maria Vergine da riposizionare nella Chiesa di Cristo al Monte sulla splendida collina di Paternò la tela risale al XVII secolo e si presume che appartenga a qualche artista spagnolo in un'atmosfera di grande fermento culturale la mostra è stata una speciale opportunità per visitare i luoghi le stanze i cunicoli del castello dalle sale reali le cucine i passaggi segreti le prigioni agli spazi dove venivano praticate le torture a visitarla diversi personaggi illustri del mondo della politica da Rosario Sant'Anastasio presidente nazionale di Arco Club d'Italia a Gatano Galvagno presidente dell'assemblea regionale siciliana dall'esponente del consiglio comunale Francesco Paolo Scarpinato al deputato nazionale alla Camera Francesco Ciancito Catania è tra le città metropolitane italiane con il più alto indice di sostenibilità digitale a certificare il risultato è stato l'osservatorio della Fondazione per la Sostenibilità Digitale in occasione della settimana dell'Heart Day durante l'incontro sul tema il Digital Sostenibility Day 2023 che si è svolto a Roma all'Università la Sapienza la tavola rotonda tematica è intervenuto in video collegamento insieme ai rappresentanti legali dei maggiori comuni capoluogo di provincia il commissario straordinario del comune di Catania Piero Mattei in rappresentanza appunto della città di Catania il capologo Etneo si è piazzato al quarto posto con un indice di 55 dopo Bologna che è di indice accumulato 66 Roma 59 Venezia 57 prima di Firenze Bari Messina Cagliari Torino Milano Genova Palermo Napoli e Reggio Calabria Adesso parliamo di Angelo Azzurronlus che è una realtà che opera in campo medico-psichiatrico ed artistico per la lotta allo stigma della malattia mentale approda nuovamente a Taormina con base a Roma i progetti hanno un respiro nazionale ed internazionale e Head Project progetto promosso proprio da Angelo Azzurronlus indice la seconda edizione del premio internazionale Giovanni Battista Calapai e Teodoro Van Mierlo Benedetti la prima edizione si è conclusa con la consegna dei premi nella prestigiosa cornice di Palazzo dei Duchi di Santo Stefano nella Perla dello Ionio il premio internazionale vuole sostenere artisti emergenti si rivolge infatti ad artisti Under 35 e prenderà in considerazione non una singola opera dell'artista ma tutta la produzione degli ultimi cinque anni la partecipazione è gratuita aperta a cittadini residenti in Italia o all'estero a partire dal diciottesimo anno di età fino al compimento del trentacinquesimo anno di età senza limiti di nazionalità sesso, etnia o religione è possibile inviare la propria candidatura entro giorno 30 giugno di quest'anno alle ore 23 e 59 ebbene con questa notizia noi ci fermiamo adesso diamo la linea alla regia per i comunicati commerciali a tra poco rieccoci nuovamente in diretta il momento delle previsioni meteo le previsioni meteorologiche per la giornata di domani venerdì 21 aprile cielo sostanzialmente sereno su tutta l'isola qualche nube sparsa nella parte centrale e sulla costa ionica sia a Messina che scendendo verso sud a Siracusa i venti saranno deboli ma ricalmi le temperature su Catania minima e massima rispettivamente di 12 e 20 gradi centigradi ma i valori nell'isola massimi salgono arrivando a 23 nella città di Agrigento notate invece la temperatura più bassa sarà rilevata ad Enna con 6 gradi centigradi è tutto per questa prima edizione noi vi ringraziamo per averci scelto e seguite preferito e vi ricordiamo che una nuova edizione andrà in onda questa sera alle 19.45 a voi tutti buon pomeriggio grazie a tutti grazie a tutti